Con questo tutorial vediamo come poter effettuare cambi di base in maniera rapida con le basi 2, 4, 8 e 16. Queste basi sono tutte potenze di 2. Allora iniziamo da questo esempio, da base 2 a base 4. 4 lo posso scrivere come 2 alla seconda. L'idea è questa, è raggruppare in gruppi di 2 questo numero e poi ogni gruppo lo vado a convertire da base 2 a base 10. Quello che ottengo sarà poi il numero scritto in base 4. Allora vado a dividere il numero 1100 in gruppi di due cifre, quindi primo gruppo e secondo gruppo ed ora ogni gruppo lo vado a convertire da base 2 a base 10. Allora qui metto i numeri 0101, così mi ricordo che devo fare 0 per 2 alla 0 più 0 per 2 alla 1. Complessivamente qui ottengo 0. poi ho 1 per 2 alla 0, cioè 1 più 1 per 2 alla 1, che è 2. Ora 2 più 1 fa 3, poi questo 0 lo vado a ricopiare e quindi ottengo 30. Questo numero è la scrittura di 1100 in base 4. Faccio la stessa cosa per quest'altro esempio. raggruppo a partire da questa cifra questo numero in gruppi di 2 e allora ottengo il primo gruppo, secondo gruppo e terzo gruppo. Ora ogni gruppo lo vado a convertire da base 2 a base 10. E allora inizio dal primo gruppo ed ho 0 per 2 alla 0 più 0 per 2 alla 1 e quindi ottengo 0. poi ho 1 per 2 alla 0 che fa 1 e poi dovrei fare più 0 per 2 alla 1 e quindi non scrivo niente. Poi ho 1 per 2 alla 0 che fa 1 più 1 per 2 alla 1 che fa 2 e quindi ottengo 3, 1, 0 e questo numero è la scrittura in base 4 di 1100. Vediamo questi altri esempi. Allora vado a raggruppare a partire da questa cifra in gruppi di 2 ed ottengo primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo e quarto gruppo. Ora devo convertire ogni gruppo da base 2 a base 10 e inizio dal primo gruppo ed ottengo 0 per 2 alla 0 e quindi non scrivo niente, più 1 per 2 alla 1 e quindi vado a scrivere 2. Poi qui ho 0 e 0 quindi scrivo direttamente 0. La stessa cosa la faccio qui, avendo 0 e 0 quindi scrivo direttamente 0. Poi ho sempre 0 per 2 alla 0 quindi scrivo 0 e poi 1 per 2 alla 1 e quindi scrivo 2. Il numero che ottengo è 2, 0, 0, 2 in base 4. Vediamo quest'altro esempio. Allora sempre a partire da questa cifra raggruppo in gruppi di 2 quindi primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo, quarto gruppo e nel quinto gruppo ho una sola cifra. Ora ogni gruppo lo vado a convertire da base 2 a base 10 ed ottengo quindi qui 2 perché faccio 0 per 2 alla 0 più 1 per 2 alla 1 e quindi è 2, poi 1 per 2 alla 0 e quindi vado a scrivere 1, più 1 per 2 alla 1 è 2. La stessa cosa lo faccio per quest'altro gruppo, è identico e quindi vado a scrivere direttamente 2 più 1. poi ho 1 per 2 alla 0 e scrivo 1, poi avendo qui 0 non scrivo nulla ed infine ho 1 per 2 alla 0 che fa 1 ed ottengo 1, 1, poi ho 2 più 1 che fa 3 e quindi scrivo 3, poi ho di nuovo 2 più 1 che fa 3 e quindi scrivo 3, 2 in base 4 e quindi questo numero è la scrittura in base 4 del numero di partenza. Vediamo ora come poter effettuare i cambi di base da base 2 a base 8. 8 lo posso scrivere come 2 alla terza, allora l'idea è quella di raggruppare in gruppi da 3 questo numero a partire da questa cifra ed ottengo primo gruppo, secondo gruppo e terzo gruppo. Ora ogni gruppo lo vado a convertire da base 2 a base 10 e allora ottengo qui facendo i conti ottengo 6, qui invece ottengo 7 e qui invece ottengo 5 e quindi ottengo complessivamente 576 in base 8. Vediamo ora quest'altro esempio, raggruppo il numero in gruppi di 3 e ogni gruppo lo vado a convertire da base 2 a base 10. Quello che ottengo sarà poi il numero scritto in base 8. Facendo la conversione da base 2 a base 10 ottengo questi tre calcoli che adesso devo sviluppare e quindi ottengo qui 4, qui 1 e qui 4 e quindi ottengo il numero 414 in base 8. Vediamo questi altri esempi sempre da base 2 a base 8, quindi devo raggruppare in gruppi di 3 cifre. Osservo che il primo gruppo e il secondo gruppo è composto da 3 cifre, mentre il terzo gruppo soltanto da 2 cifre. Ora ogni gruppo lo vado a convertire da base 2 a base 10 ed ottengo, allora sommando qui ho 3, qui ho 1 e qui ho 4 e quindi ottengo il numero 314 in base 8. Vediamo quest'altro esempio, vado a dividere in gruppi da 3, allora ho il primo gruppo che è da 3 cifre, il secondo gruppo è quello che mi rimane, quindi ho 2 cifre. Di nuovo effetto la conversione da base 2 a base 10 di ogni gruppo ed ottengo qui 2, poi qui ho 2 alla seconda che fa 4 più 2, 6 e quindi vado a scrivere 26 in base 8. Vediamo quest'ultima tipologia, voglio passare da base 2 a base 16, siccome che 16 lo vado a scrivere come 2 alla quarta, allora vuol dire che questo numero lo vado a raggruppare in gruppi di 4, ogni gruppo poi lo vado a convertire, come abbiamo fatto prima, da base 2 a base 10 e allora otterrò il primo gruppo e il secondo gruppo. Ora ogni gruppo lo vado a convertire, da base 2 a base 10, ed ottengo qui 8 e quindi vado a scrivere 8. Qui, se vado a sommare tutto, ottengo 15. Ora, in base 16 il numero 15 è rappresentato dalla lettera F e allora vuol dire che il numero scritto in base 16 è pari a 8F. Vediamo quest'altro esempio, allora vado a dividere il numero in gruppi da 4 ed ottengo il primo gruppo, poi ho il secondo gruppo ed infine il terzo gruppo. Ora, ogni gruppo lo vado a convertire da base 2 a base 10 ed ottengo qui 2 alla terza che è 8 più 2 che fa 10 e quindi vado a scrivere 10, qui ho 0, qui invece 2 alla seconda che fa 4 più 2 fa 6. E quindi scrivo 6. Ora, in base 16 il numero 10 è rappresentato dal simbolo A e allora ottengo come numero A06. Vediamo questi altri esempi, vado a raggruppare questo numero in gruppi di 4 e quindi ottengo il primo gruppo, poi il secondo gruppo, il terzo gruppo ed infine il quarto gruppo costituito soltanto da due cifre. Ora, ogni gruppo lo vado a convertire da base 2 a base 10 ed ottengo qui vado a scrivere 3, qui vado a scrivere 15, poi ottengo 12 ed infine ottengo 3. Ora, 15 in base 16 lo scrivo come F, 12 in base 16 lo scrivo come C ed ottengo il numero 3FC3. Vediamo quest'altro esempio, allora raggruppo in gruppi di 4 e poi vado a convertire da base 2 a base 10 ogni singolo gruppo. Dopo aver convertito ogni singolo gruppo in base 10, ora devo ricordare che il numero 14 in base 16 è pari a E, mentre il numero 12 in base 16 è pari a C. E allora vado a scrivere 3, 5, E, C. E questa è la scrittura di questo numero in base 16. Vediamo ora il processo contrario. Voglio convertire un numero da base 4 a base 2. L'idea è questa, ogni singola cifra del numero scritto in base 4 corrisponderà ad una coppia di 2 bit in base 2. Ora devo andare a scrivere quindi 3 in base 2 ed ottengo il numero 1, 1, mentre 2 scritto in base 2 sarà pari a 1, 0 e allora il numero scritto in base 2 sarà pari a 1, 1, 1, 0. Vediamo quest'altro esempio. Allora, ogni singola cifra la devo andare a riscrivere in base 2. Allora, 1 scritto in base 2 è proprio pari a 1, quindi se voglio posso mettere qui 1, 0 e quindi scrivo 0, 1. Poi ho 2, 2 scritto in base 2 è pari a 1, 0, 3 invece è pari a 1, 1, 1, ed infine ho 0 e quindi devo andare a scrivere 0, 0. Ho bisogno sempre di coprire tutte e due i bit. E allora il numero scritto in base 2 sarà pari a 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Osservo che lo 0 iniziale si va a escludere. Vediamo ora come poter effettuare il passaggio da base 8 a base 2. Facendo il passaggio da base 8 a base 2 mi devo ricordare che ogni cifra corrisponderà in base 2 a un gruppo di 3 bit. Quindi devo andare a scrivere 1 in base 2 e 0 in base 2. Allora, 1 scritto in base 2 utilizzando 3 bit sarà pari a 0, 0, 1 e 0 sarà pari a 0, 0, 0. E allora vuol dire che 10 in base 8 in base 2 corrisponderà a 1, 0, 0, 0. Questi 0 di fronte non hanno alcun peso e quindi si trascurano. Vediamo quest'altro numero, 324 in base 8. Allora, devo andare a convertire questo numero in base 2? Allora, 3 lo vado a scrivere in base 2 utilizzando 3 bit e sarà pari a 0, 1, 1. Poi ho 2. 2 scritto in base 2 sarà pari a 0, 1, 0. Poi ho 4 e quindi scrivo 1, 0, 0. E quindi il numero 324 in base 8 in base 2 sarà pari a 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Vediamo quest'ultimo esempio. Allora, lo scopo è passare da base 16 a base 4. Facendo il passaggio da base 16 a base 4 mi devo ricordare che ogni cifra in base 16 corrisponde a un gruppo di 4 cifre in base 2. Allora, devo convertire la cifra A da base 16 a base 2. Siccome che A è pari a 10, devo andare a convertire sostanzialmente il numero 10 in binario ed è pari ad 1, 0, 1, 0. Poi ho la cifra 1 e quindi vado a scrivere 0, 0, 0, 1. Poi ho D. D corrisponde al numero 13, quindi vuol dire che devo convertire 13 in binario ed ottengo 1, 1, 0, 1. Quello che ottengo è la scrittura di A1D in base 2. Vediamo quest'ultimo esempio. Allora ho F0B. Siccome che F è pari a 15 vuol dire che devo convertire 15 in binario. 15 in base 2 lo vado a scrivere come 1, 1, 1, 1. Poi ho 0, 0 in binario è proprio 0, 0, 0, 0. Ed infine ho B. B vale 11, quindi vuol dire che devo convertire 11 in base 2. Ed è pari a 1, 0, 1, 1. E con questo termino il tutorial su come poter effettuare cambi di base in maniera rapida utilizzando le basi 2, 4, 8 e 16.